per Luigi Berzani. Allora, cartello 10, le opposizioni chiedono le dimissioni di Daniela Santa, anche vedremo che è una vicenda diciamo anche simbolica per parte dell'opposizione per la politica. Allora, il cartello 10 ci dice che è indagata per truffa ai danni dello Stato, banca rotta e falsa in bilancio. Ci sono irregolarità, ha nascosto la crisi economica, di sé sta portata, ma quello che ha un peso politico maggiore di tutti sarebbero stati incassati 126 mila euro di cassa integrazione Covid, mentre però i dipendenti lavoravano. Allora, lei che ne pensa? Ma io devo partire da una cosa che mi sta qui. Iosefa Idem, un orgoglio dell'Italia, otto Olimpiadi, 38 medaglie, Olimpiadi mondiali europei, Ministra dello Sport, del governo Letta, si dimette per una irregolarità IMU, per l'accusa di un'irregolarità IMU, sanabile e poi sanata con un'ammenda. La Sant'Anchè chiese le dimissioni, mancava nel cartello di Luca e Paolo, insieme a Giorgia Meloni. Questa è indagata per truffa ai danni dell'Infsa, per tacere del resto, ai tempi del Covid e dice che sta lì. Cosa penso? È la Marchesa del Grillo. Io sono io e voi non siete un puntini, puntini, puntini. È una bella sindrome da premierato, capito? Siccome ho i voti e sono sulla sedia, faccio quel che voglio. Questa è la cosa.